non vanno detto niente non vanno detto niente no perché stare allerta no è per l'amor di dio visto la mia eh ma la forza dai sbrigatevi che la signora deve partorire su si un chirurgo plastico un cittadino salve volevo fare un piccolo intervento a mia moglie bene bene vogliamo togliere le zampe di gallina intorno agli occhi no 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 vogliamo togliere le rughe sulle labbra no 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 vogliamo togliere un po di doppio mento no 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 e alla cosa vogliamo togliere la parola questo è quello che piacciono a lei signor paolo vero la so non mi mettere imbarazzo un cittadino arrabbiato un impiegato del deposito giudiziario allora buongiorno mi hanno sequestrato la macchina è qui da due ore volevo sapere quant'è 7.400 euro chieda regalo grazie grazie